Oggi sono venuto a raccontare il progetto pilota di Firenze che parte insieme alla Cashless Community, insieme al Forum Ambrosetti, dell'esperienza partita nel 2016 per fare di Firenze un progetto di pilota dei pagamenti cashless. Entro questo mese arriveremo a poterci spostare a Firenze con tutti i mezzi pubblici con pagamento cashless, perciò dal bike sharing, al car sharing, alla tramvia, al normale autobus, ai parcheggi, ai parcheggi scambiatori. Questo è stato possibile grazie a un piano d'azione che ha seguito un protocollo d'intesa, mettendo insieme tante persone, tante teste, tante istituzioni e la volontà di cambiare la città. Oggi è stato un bel confronto, ha raccontato la nostra storia, ma soprattutto ho potuto sentire altre esperienze molto interessanti da tutti gli attori veramente qualificati di primo piano nello scenario internazionale.